Le immagini del Gloria di Pozzo della Chiana, manifestazione tutta particolare per commentare un successo di fede e tradizione per quanto riguarda le celebrazioni pasquali. Un desiderio forte di riappropriarsi dei riti che fin da piccoli hanno scandito i momenti dell'anno per tutti noi. Le celebrazioni di Pasqua, oltre che avere un andamento buono dal punto di vista della riuscita, una tra tutti, la più famosa, il carro di Firenze, hanno visto una partecipazione incredibile di persone, da quelle di Arezzo fino alla Valdichiana, forse le celebrazioni più sentite nel periodo pasquale, fino ad arrivare alle manifestazioni di fede in Valtiberina, in Casentino o anche in Valdarno. In questi giorni abbiamo cercato di raccontarle ai nostri telespettatori, ma partecipare ha dato il senso di una vita tornata alla normalità, almeno per quanto riguarda culto e fede. Adesso la Colombina, proprio a Pozzo della Chiana, domenica prossima, chiuderà un ciclo che traccia un ottimo bilancio.